ciao a tutti benvenuti e bentornati a una nuova puntata di gdt live io sono roberto e oggi parliamo di flick em up un gioco in punta di dita ambientato nel far west gli autori sono jean yves montpertuis e gaetan boujannot della z man games distribuito in italia da genos è un gioco per due dieci giocatori della durata di circa 30 45 minuti la particolarità di flick em up è che coniuga nello stesso gioco strategia tattica e destrezza in maniera geniale ogni scenario che viene proposto deve essere pianificato ci si deve adattare alle situazioni del caso e ci si diverte un mucchio avete visto i nostri lights per prima cosa procuratevi una superficie abbastanza grande per contenere lo scenario di gioco abbastanza liscia per poter far scorrere le pedine del gioco e fatta in modo tale che ci possiate girare intorno diciamo che un biliardo con una tavola posizionata sopra sarebbe la situazione perfetta per questo gioco ci si divide in due squadre uomini dello sceriffo e fuori legge ogni squadra ha cinque tessere che rappresentano i rispettivi personaggi in alto trovate il numero col nome in basso la pistola arma di base per tutti lo spazio per i punti vita e un piccolo inventario con due spazi come vedete ogni omino ha un cappello ogni cappello ha un numero identificativo corrispondente alla tessera personaggio e due colori rosso e blu ora guardiamo l'orologio della città i colori blu e rosso si alternano ogni ora cappelli dei personaggi e ore del giorno sono fondamentali per capire chi ha già giocato e chi no se si comincia con un'ora rossa tutti i cappelli sono girati sul rosso il primo cowboy che viene mosso è quello col segnalino primo giocatore e il numero uno una volta mosso si gira il cappello a indicare che quel personaggio ha già giocato ci si alterna tra le squadre a muovere i propri personaggi sempre seguendo l'ordine numerico quando tutti i personaggi hanno il cappello girato nel nostro caso sul blu è finito il turno di gioco e si sposta la lancetta dell'orologio avanti di un'ora a questo punto l'ora diventa blu e scatta un altro turno di gioco ogni cowboy può fare solo due azioni a scelta tra muoversi sparare prendere lasciare e scambiare queste ultime tre possono essere effettuate solamente all'interno di un edificio per muovere un cowboy sostituisce la pedina personaggio col disco movimento e poi si schicchera il movimento è considerato un successo se la pedina non tocca nessun elemento dello scenario o altri personaggi si sostituisce il cowboy alla pedina che lo si può orientare come si vuole in caso contrario l'azione persa si riporta la pedina movimento al punto di partenza e si rimettono gli elementi scenici al posto originario e il giocatore poi seguire la seconda azione ad esempio ritentando il movimento per entrare o uscire da un edificio è consentito toccare la parte interna dei supporti e basta aver sorpassato con la pedina la linea della porta per sparare bisogna posizionare il disco nero che identifica il proiettile di fianco al cowboy alla distanza di un proiettile e poi si può schiccherare per colpire gli avversari un cowboy è colpito e perde un punto ferita quando il proiettile fa cadere la pedina personaggio il cowboy colpito rimane sdraiato fino all'inizio del suo prossimo turno e non può essere colpito da altri proiettili o dinamite gli elementi scenici spostati da un proiettile non vengono riposizionati non sono considerati validi colpi di rimbalzo e se un proiettile colpisce più cowboy ferisce soltanto il primo attenzione al fuoco amico se colpite un cowboy della vostra fazione subisce le ferite come tutti gli altri quando un cowboy muore la sua pedina viene eliminata dal gioco gli oggetti finiscono sui supporti del becchino e la tessera identificativa si gira mettendoci sopra il cappello per dare continuità all'ordine di gioco se in possesso del segnalino primo giocatore questo viene passato al cowboy che l'ha ucciso si può sparare da dentro un edificio posizionando il proiettile dentro l'edificio e mirando attraverso la porta il gioco termina quando una delle condizioni dello scenario è verificata o quando l'orologio segna le ore 12 ovviamente gli scenari sono la parte caratteristica del gioco e su internet ne potete trovare già gli aggiuntivi gli scenari danno indicazioni su come predisporre gli elementi scenici e le partenze delle due squadre gli obiettivi da raggiungere l'inventario e i punti ferita in più aggiungono una trama e delle regole particolari da applicare volta per volta di queste vorrei parlarvi di tre che mi hanno colpito in maniera particolare il duello la dinamite e il winchester il duello avviene quando due cowboy di fazioni avverse entrano nello stesso edificio da notare che non in tutti gli scenari è permesso entrare negli edifici in un'area fuori dallo scenario si posizionano i due cowboy uno di fronte all'altro alla distanza che avete precedentemente deciso l'ultimo cowboy entrato è il primo a sparare se manca il bersaglio l'avversario avanza col proprio segnalino di una pedina movimento e spara a sua volta il primo che colpisce oltre a togliere un punto ferita vince il duello e deve letteralmente buttare fuori dall'edificio il rivale toglie il cappello lo mette dietro la porta e lo schiccherà fuori la dinamite viene lanciata come un proiettile ma quando si ferma provoca danno a tutto ciò che rimane entro una pedina movimento di raggio gli oggetti vengono eliminati dal gioco mentre i cowboy ricevono un punto di danno e si sdraiano se la dinamite esplode dentro l'edificio colpisce automaticamente tutti i cowboy all'interno che poi vengono schiccherati all'esterno come se avessero perso un duello il winchester permette di colpire con molta più precisione rispetto a una pistola e si utilizza esattamente come un proiettile ma attenzione ricordatevi che quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile quello con la pistola è un uomo morto bene abbiamo parlato delle regole basilari di flick em up è un gioco molto light e tutto sommato molto veloce ma spesso vi troverete in squadra a decidere cose come accerchiamo lo sceriffo all'aperto o cerchiamo di chiuderlo nel suo ufficio puntiamo all'obiettivo direttamente o cerchiamo riparo negli edifici tutto ciò condito dall'inesorabile scorrere del tempo che mette un po di pressione a tutti a mio parere è un gran bel gioco anche per le famiglie genitori contro figli maschi contro femmine le regole sono semplici e immediate il divertimento e la soddisfazione di buttare giù un avversario magari dall'altra parte del tavolo sono veramente impagabili se si stabilisce una strategia iniziale per raggiungere l'obiettivo è facile avere la necessità di mutuare tra varie tattiche in base alle scelte dell'avversario l'interazione è totale e coinvolgente e non si assiste a cali di tensione un momento di noia la rigiocabilità è altissima e come già detto si possono già scaricare scenari da aggiungere a quelli nella scatola e non mi stupirei se cominciassero a saltare fuori scenari creati dagli utenti magari basati su fatti realmente accaduti nell'epopea del far west o ad esempio liberamente ispirati da film o fumetti Dexville, Lucky Luke, Ken Parker non vi dicono niente la durata contenuta delle partite vi permette di farne anche più di una nell'arco della stessa serata per noi è un ottimo e permette di alternare serate impegni attive a serate un po più scanzonate e cacciarone avete visto i nostri highlights con questo è tutto ci vediamo alla prossima puntata di gdt live ciao ciao grazie a tutti grazie a tutti